Ed è arrivato il momento del pezzo grosso, anzi direi grossissimo, perché stiamo parlando dell'Audi RS Q8, il primo super SUV del reparto sportivo della casa di Ingolstadt. Si fa presto a dire super, ma spesso e volentieri questi vestioni non se la cavano un gran che bene, se non per i numeri che riescono a staccare sui rettilinei. Stavolta però c'è forse da ricredersi, visto che Frank Stippler, già assunto da Amazon per il servizio Prime, ha abbassato di 7 secondi il precedente record della categoria, che per giunta apparteneva ad un'auto più leggera. Per fare un paragone, ma per Diana state calmi, siamo a mezzo secondo al chilometro dalla Giulia Quadrifoglio e personalmente tre anni fa avrei fatto fatica a credere che in così poco tempo saremmo arrivati a certi numeri. È vero, l'RS Q8 usata per il record non era un esemplare di serie al 100%, ma per il giro sono state usate delle Pirelli P0, diante Trofeo R o Sport Cup 2. Detto questo, ritengo comunque che i tempi al Nürburgring non siano direttamente proporzionali al divertimento che vi può offrire un'auto alla guida. So che all'interno del vostro cuore non c'è tantissimo spazio per il SUV, nemmeno nel mio per essere sinceri, ma il bello di questo RS Q8 è che condivide il 90% dell'hardware con RS6 ed RS7, per cui anche sotto questo cofano troviamo il V8 4000 biturbo da 600 cavalli e 800 newton per metro di coppia, che stavolta fanno passare l'auto da 0 a 100 in 3,8 secondi e la fanno accelerare fino a 305 km orari di velocità massima. Il tutto è gestito dalla trazione integrale 4, ripartita 40-60 e anche in questo caso abbiamo l'opzione del differenziale sportivo al posteriore per andare a gestire meglio la coppia durante le curve. Le sospensioni pneumatiche non hanno la tecnologia che abbiamo visto su Avant e Sportback, ma possono portare a richiesta su varie antiroglio attive con il sistema 48V come sulla variante diesel SQ8. Anche qui c'è la possibilità di veleggiare a motore spento per 40 secondi fra 55 e 160 km orari e disattivare una bancata, visto che prestazioni elevate non devono per forza essere sinonimo di inefficienza. Il tutto infine è orchestrato dall'inseparabile cambio a 8 rapporti Tiptronic dotato di launch control. Non si erano mai viste delle ruote così grandi sotto un modello del reparto Audi Sport. In questo caso arriviamo fino a 23 pollici per consentire l'alloggiamento di un disco in carboceramica da 440 mm. Non vi preoccupate per tenere sotto controllo il peso, si parte comunque da un rotore da 420 mm accoppiato come nel primo caso a una pinza monoblocco a 10 pistoncini. Capito no? Di certo non troveremo la purezza dell'Audi R8 e del suo maestoso V10, ma di sicuro non è su questo che punta esclusivamente la RS Q8. Se c'è una cosa che queste auto sanno fare bene è farvi stare comodi. Guardate anche entrare nella parte posteriore dell'abitacolo quanto è semplice. Ho tantissimo spazio per la testa e con tutto quello che mi avanza per le gambe potrei tranquillamente mettere un tavolo e cominciare a lavorare al computer. Abbiamo la possibilità di gestirci la climatizzazione e visto che il tunnel centrale è più basso anche stare al centro per una persona alta come me. Ve lo ricordo sono 1,80 m. È davvero molto confortevole. Per quanto riguarda materiali, assemblaggi e finiture l'ambiente è assolutamente premium dovunque si guardi e si tocchi e la cosa migliore ancora di più quando andiamo davanti. Ed eccoci qua. Guardate quanto spazio. Sembra davvero di stare in poltrona. Anche qui è semplicissimo entrare e uscire. Abbiamo la possibilità di raffrescare oppure anche di riscaldare i sedili magari per le mattinate più fredde. Abbiamo sempre il sistema di infotainment MMI Touch Response. C'è anche qui la possibilità di intervenire sulle modalità di guida per andare a impostare le proprie preferenze sull'assetto per quanto riguarda i vari parametri, sospensioni, sterzo, suono del motore e anche il differenziale. Un'auto completissima per un pubblico abbastanza esigente e soprattutto parecchio facoltoso. Mettiamoci l'anima in pace. I SUV ormai sono la quota trainante del mercato e anche se la RS6 offre tutto questo e anche di più è pur vero che le familiari pompate di Audi e altri costruttori rappresentano per molti clienti in senso buono un film già visto. E puntare su altro non è poco senso insensato nemmeno da parte dei costruttori. Lo so che l'Audi RS Q8 non vi starà simpatica o non si ritaglierà uno spazio speciale all'interno del vostro cuore ma guardatela così grazie ai ricavi provenienti dalle sue vendite che di sicuro saranno altissimi Audi Sport potrà continuare il lavoro in ricerca e sviluppo sui modelli che piacciono a noi appassionati. Detto questo allora lascio a voi le prime impressioni sul nuovo sub sportivo della casa di Ingolstadt. Fatemi sapere quello che ne pensate qui nei commenti sul canale di YouTube e ovviamente sul sito automoto.it che se partono. Come andiamo a tutti. Come andiamo a tutti. Come andiamo a tutti. Grazie a tutti.